Entra nel vivo la prestigiosa Coppa Stagno dal Contres, importante manifestazione giovanile Under-14 giunto ormai alle fasi finali. Un solo italiano è rimasto nel tabellone maschile. Si tratta del cagliaritano Nicolò Dessì, numero 413 nel ranking d'Europa che sfiderà il croato Mili Policac. La messinese del circolo del tennis e della vela Fabrizia Cambria invece è stata sconfitta agli ottavi dalla palermitana Giorgia Pedone, che in semifinale sfiderà Giulia Martinelli in un match a tinte azzurre. Ieri, pomeriggio intenso e ricco di colpi di scene giocate mozzafiato, anche nella semifinale di doppio femminile dove la nostra Fabrizia Cambria e la Pedone sono state sconfitte dal tandem britannico Johnson Smith, che a loro volta sfiderà in finalissima il duo Vanimpe-Valigora. Premiata infine l'egiziana Biba Farouk, che ha trionfato nel consolation femminile.